I Tazienda sono tornati a due mesi di distanza dall'incidente che aveva fermato il tour, la band isolana è risalita sul palco ieri al Teatro Lirico di Cagliari in occasione della Gigi Riva Football Week nella sera della festa che ha celebrato gli 80 anni della nascita di Gigi Riva. Noi abbiamo avuto la fortuna e l'onore e il privilegio di aver conosciuto Gigi Riva perché ce lo siamo ritrovati a un nostro concerto. L'emozione è stata fortissima allora ed è forte adesso perché Gigi Riva è la Sardegna, non è solo il calcio, Gigi Riva è la Sardegna. Stasera i Tazienda si esibiranno invece Iglesias in Piazza Sella. Idealmente chiudiamo la stagione da vivi e luminosi e sul palco che era il nostro intento, quello di non chiuderla come dire al buio. Il nostro pubblico, la nostra gente diciamo è stata molto sensibile a quello che ci è successo, ma a prescindere da quello che ci è successo il nostro pubblico è sempre stato come fosse parte della band per cui noi in qualche modo cerchiamo sempre di rendere onore a questo rapporto.